Fate come me, non uscite. Il richiamo alla responsabilità arriva stavolta in modo curioso, tracciato sul pancione di mamma Elisa, che a breve darà alla luce il suo secondo genito. Il bimbo maschio dovrebbe nascere tra pochi giorni, ma alla luce dei recenti provvedimenti del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Italia, ha deciso di inviare un messaggio a tutti i suoi futuri concittadini, invitandoli a restare a casa. La simpatica idea è frutto del papà, il fotoamatore pratese Andrea Cecchi, docente del Centro Sperimentale di Fotografia di Prato. Appassionato di fotografia, Andrea ha deciso di immortalare il pancione della moglie e di realizzare uno scatto che potesse con estrema dolcezza e creatività riflettere i tempi che stiamo vivendo. Mi sono sempre dilettato nel realizzare fotografie fantasiose, spiega Andrea. In questo periodo di difficoltà collettiva ho pensato di poter realizzare uno scatto che lanciasse anche un messaggio positivo nonostante tutto. Babbo Andrea, mamma Elisa e la sorellina minore di due anni Marta potranno presto accogliere il nuovo arrivato, il piccolo si chiamerà Tommaso. Auguri!